quindi non riesci proprio a resistere a queste donne no ed è per questo che quando le vedi cerchi sempre di parlare e andare a fare conoscenza di fare tutte ste cose qua ma hai cambiato modo almeno modo si in che senza ma cos'è che ti piace di queste donne qua cos'hanno di così speciale ma non solo come sono vestita non solo queste delle riviste tu che hai questa passione per le donne perché hai questa passione per le donne perché sono truccate sono simpatiche e quelle che non sono truccate cos'è che ti piace tanto nelle donne perché desideri tanto un'amorosa una donna perché i capelli i capelli biondi o mohi ma quello è come sono fatte le cose no allora io posso dirti mi piace tanto quella porta lì perché è bianca il vetro è un po' opaco c'è questa bella maniglia e ti spiego il perché mi piace perché mi piacerebbe portarla però magari il motivo per cui mi piace di più è che mi serve una porta a casa perché sono senza oppure di tutte le porte che conosco questa porta è la più bella che io abbia mai visto non perché alla maniglia ai cardini è rettangolare perché tutte le porte più o meno sono fatte allo stesso modo però chissà perché a me piace questa vero no allora torniamo sulle ragazze perché ti piace tanto l'idea di avere una ragazza perché ti piace tanto il mondo femminile perché ti piacciono tanto le femmine perché mi piacerebbe una baciaglia fai sesso fai l'amore cosa ti manca in mea che hai questo bisogno l'amore mi manca l'amore scegli per te la più bella la più bella quella che ti è piaciuta di più di tutte quelle che hai visto lì nel giornale questa acqua ok allora giochiamo a fare finta che vi conoscete su come comincia ciao 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 sono Enea come si chiamerà lei inventiamoci Caterina ciao Enea io sono Caterina cosa fai qua mi mi sono sono venuto a trovarti ti stai diventendo eh mi stavo divertendo sì sì avevo voglia di andare a fare un bagno visto che oggi è una giornata calda anch'io mi stavo divertendo e avevo voglia di fare un bagno vuoi che andiamo a farlo assieme vuoi che vuoi andare a fare insieme veramente l'ho detto io che faccio finta di essere Caterina Caterina ti dice vuoi che andiamo a fare assieme il bagno si è buonga andiamo dai andiamo ma faccio un tuffo benissimo cosa succede poi poi succede che che ci cosa è che hai voglia di fare tu in questo caso cerco di capire se sei sensibile sei carina se sei simpatica se sei interessata a me credo sia difficile da capire difficile arrivati a questo punto cosa facciamo continuiamo a mantenere un'amicizia o cominciamo a innamorarci ha cominciato a innamorarvi tu e Caterina vi piacete sì furbetti furbetti sì che bello mi piace questo gioco ti piace che bel gioco che abbiamo fatto con Caterina oggi hai visto chissà se sei contenta Caterina sei contenta di sì